Tutti ragazzi sono Brunatecoci qua in un nuovo video sponsor Ok raga oggi sponsorizzo a M.Michael C'è Michael l'accherino Perché qua raga Qua vabbè Il nome per fare ridere Vabbè raga lasciamo stare va Comunque Raga Lui fa video da pc Gli è arrivata anche alla webcam Quindi è iniziato a fare video dalla webcam Si raga l'ho sponsorizzato un paio di volte Però raga vi voglio dire una cosa Vi dovete iscrivere raga perché lui È un grande cioè raga È un grande cioè forse Forse faremo Quando mi riempiono le cuffie faremo un bot di video con lui Sicuro Ci faremo i video Perché giochiamo sempre insieme noi Comunque raga vai Noi ci conosciamo da tanto diciamo Perché lo conosco in vita reale Vabbè lasciamo stare Questi sono dettagli raga Vi dovete iscrivere Vi dovete iscrivere Lui fa video da pc raga Quindi se voi avete il pc Questi video fanno al caso vostro Guarda qua Questo qua c'è C'è Come creare l'effetto matrix raga Mi prendete conto Ok raga Per ascoltare Io non ho il pc però Tutte queste cose Come creare un messaggio di errore raga C'è raga a sto punto L'unica cosa che mi manca È come installare un virus Nel proprio pc Cioè A caso boh Lol Cioè Non credo che lui riesca a fare un virus Boh Non lo so raga Non lo so Vabbè comunque raga Tutti iscrivetevi Link in desk Raga per favore Tutti iscrivetevi Lui è un grande Cioè raga è un grande Tutti iscrivetevi È un pro player un grande Eccolo Guardate A 64 iscrivetevi Guardate 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 Vabbè Comunque iscrivetevi Se volete giocare con lui Su Fortnite Contattate me O lui Vabbè comunque bella Guardate 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 Guardate